Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi presentiamo il volume Esercizi di elettrotecnica generale di Danilo Tommassini. Libri Sandit. Contenuti. Esercizi di corrente continua. Esercizi sulle reti elettriche in regime stazionario. Esercizi risolti di magnetismo ed elettromagnetismo. Esercizi risolti sui fenomeni transitori nei circuiti RL e RC. Esercizi svolti sulle correnti alternate. È un volume ricco di immagini, ben fatto e con tutti gli esercizi ben spiegati. Ottimo aiuto agli studenti di elettrotecnica, impianti civili e industriali, per automazione e anche chi vuole approfondire le proprie conoscenze di elettrotecnica. Grazie per l'attenzione e vi aspettiamo per un prossimo nostro video. A presto!